La cosa che mi preoccupa di più sul piano organizzativo è la copertura di tutti, il numero enorme di posti vacanti che abbiamo, vacanti, disponibili, quindi noi conto che faremo almeno 15-16 mila supplenze, quindi un numero enorme. Se lei pensa che il nostro organico complessivamente docente è di circa 61 mila unità, quindi abbiamo il 22,5% delle cattedre che sono cattedre vuote in questo momento, quindi è un'organizzazione molto forte sulla quale ci stiamo ovviamente già attrezzando, ma ovviamente il mio timore è che abbiamo carenza di aspiranti, cioè le graduatorie non ci aiuteranno completamente a coprire tutte le cattedre vacanti e questo ovviamente in epoca Covid è un problema nel problema, perché non possiamo permetterci nei primi giorni di scuola di smistare gli alunni su altre classi, chiaramente.